Assolutamente, è partita apertissima, ma io sentivo quasi dei cori in lingua araba, non lo so, non lo so se il nostro Simone Barbato ci ha preparato qualcosa a tema. Benvenuto Barbato! Attenzione Lautaro, provvede l' che si salva in angolo. Allora, Ariadne, l'Inter vincerà questo il coro del nostro Simone Barbato, ma devo continuare. Augusto, non vogliamo rubarti altro tempo? C'era solo una considerazione rapidissima. No, no, volevo solo chiedergli velocemente com'è la situazione atmosferica, se fa caldo o se non fa caldo. Bello, questo mi piace. Guarda, allora, il giorno fa molto caldo, sono intorno a 25-26 gradi, oggi si stava a mancare la cina in maniera. La sera mi vedi, ho il giacchetto, perché faranno circa... Faranno circa... Guarda, oggi si sta bene, ieri abbiamo un po' battuto i denti, perché quando tira vento, tira un vento veramente gelido. Ieri c'era intorno ai 10 gradi. Pendolino. Ma volete sapere il risultato preciso della partita? La sfera magica si cala sul campo di Riad, 17 gradi sul... C'era la lampada di Aladino lì, c'era la lampada di Aladino stavolta. Bravo. Allora la strofiniamo, la lampada di Aladino sul campo di Riad, 17 gradi sul cronometro, voi direte in Arabia fa caldo. No, questa sera non c'è caldo, ma ci vuole il cappotto, fa freddo, attenzione, andiamo al 17esimo, Turam, Turam, passaggio filtrante, la palla in rete, l'Inter in vantaggio, 1 a 0, 48esimo, attenzione, Pietro su Lautaro, fallo, attenzione, va al Vare l'arbitro, non si capisce bene, rigore. Siamo al 49esimo, va sul dischetto, c'è la Noglu, il raddoppio dell'Inter, 2 a 0 per i Neroazzurri. Andiamo al 51esimo, attenzione, Lautaro la traversa clamorosa. Ma questo si è già visto, attenzione, questo si è già visto, ma il pendolino mi fa vedere cose già viste. E quindi andiamo nel futuro, signore, signore, andiamo al 77esimo, Provedel, lungo rinvio, Marusic, il tiro respinto dalla difesa dell'Inter, ancora Vesino. E c'era un pendolino strozzato, quindi attenzione, il presente l'abbiamo già detto e ci caliamo nel futuro, nel futuro della partita di Inter-Lazio, Provedel, il rinvio, Marusic, spizza di testa, Cataldi, sguscia via due uomini e la palla in rete, Zaccagni, 2 a 1. Ma quando andiamo all'ottantesimo, attenzione, il petauro volante va a rinvio da fondo campo. Sommer è lungo rinvio, l'architetto c'è la Noglu, passa il barometro, Niki Tarian che misura la pressione, serve Di Marco, il cuore pulsante che la mette dentro. E il 3 a 1 dell'Inter, Di Marco. Attenzione, quando mancano due minuti alla fine della partita, l'arbitro dice, anzi il quarto uomo dice, tre minuti invece che due minuti di recupero. Quello che è successo un minuto finutiamo, non c'era niente. Si calma perché sfrizziamo barbato e poi ritorniamo su questo episodio da Moviola perché io voglio vedere il braccio, lo voglio vedere, me lo fate vedere. E c'è ancora Barella per Di Marco, Di Marco la palla al centro, calcio d'angolo per l'Inter. Mancano 5 secondi di partita. 5 secondi, 5 secondi. Gli ultimi 5 secondi l'Inter si riversa nella metà campo della Lazio, attenzione, Turamme, Lautaro e Di Marco 4 a 1 e finisce la partita. E impazza un meme sui social o una gif, chiamatela come volete, di Di Marco così. Il coro di Sanchez, il coro di Sanchez, lo vogliamo fare? Quale? Quale, qual è il coro di Sanchez? E' il nigno maraviglia che via, che via, che via, che il nigno maraviglia. E' il nigno maraviglia che via, che via, che il nigno maraviglia. E' un po' più giù, volea volare l'uselin di la comara. E' stato colpito proprio lì, diciamo. E' un po' più giù, volea volare l'uselin di Solaroli. E' un po' più giù, volea volare l'uselin di Solaroli. Adesso, non esageriamo. Attenzione a Frattesi che carica il destro e il tiro. Goal! Goal! E sono tre! Davide Frattesi! Terzo gol per Frattesi stagione. Terzo gol per l'Inter oggi. 3-0 sulla Lazio. Lui di solito segna il 93, stavolta ha anticipato un po' i tempi. È un'ora che pazzesco Luisa Alberto. Assista ancora del professore, anzi quarto gol con l'Inter, ricorda la grafica. Bravo, bravo Frattesi. Bravo Frattesi che esulta anche con grinta. Ma non è finita fino a questo punto possiamo già finire. Posso dire una cosa? Infinito, infinito. Nikita Rian, è arrivato l'armeno che va come un treno e con Nikita Rian. È arrivato l'armeno che va come un treno e con Nikita Rian. È arrivato l'armeno che va come un treno e con Nikita Rian. Nikita Rian, senti nell'aria c'è già Nikita Rian. Ma con la MMMM. Mi chitaria. Grazie. Alla prossima. Alla prossima. Grazie, buon prossimo inizio. Grazie, naturalmente. Andrà in sala stampa. Così lui era lì. È una magia il fatto di poter parlare in questi termini. in Arabia Saudita sembrava di averlo qua. È una roba incredibile. Ma era circondato dal celeste. Infatti era nel suo ambiente. Io rimango sempre meravigliato quando vedo queste cose. Non mi abituo mai alla tecnologia, posso? Sono stati bravi tutti, anche i nostri tecnici. Non è neanche affascinato quando vedo... Se non hai neanche i caloriferi a casa, se ancora con la stufa c'è un motivo. Stufa di ghisa, stufa di ghisa a legna. Vado avanti ancora con la stufa di ghisa con il coperchio. Neanche i pellet, con la legna. Faccio da mangiare, alzo il coperchio e faccio da mangiare. Quindi per me vedere queste cose... È un miracolo. È un miracolo, è un miracolo. Sta impazzando, attenzione, sta impazzando tra gli arabi dello stadio, sta impazzando. E questa è una risposta al nostro amico Solaroli, che diceva che sono più milanisti o giuventini. Attenzione, perché è arrivata appena adesso in redazione una notizia, che gli arabi stanno cantando una canzone. Stanno cantando questa canzone qua. Nero azzurri, di Milano siamo il vanto. Io di amarti non mi stanco, siamo gli ultras della nord. Viaggio al mondo, attraverso lo stivale. Per la mia internazionale, io per te combatterò. Nero azzurri, nero azzurri, nero azzurri, nero azzurri. No, dare appunto, come l'ho definito, un respiro di speranza ai tifosi di squadre di media classifica, come può essere il Bologna, la Fiorentina, è importante. Perché da quest'anno in poi anche questi tifosi possono sperare di ambire, ma chi lo sa, di poter vincere la sua Coppa Italia. Guarda, posso dire che questa cosa è come allungare l'acqua col vino? Quello è un po' eccessivo, perché comunque portare cinque squadre in Coppa dei Campioni, proprio questa è una cosa che mi sa di cosa di soldi, proprio. Invece quattro squadre in Supercoppa è una cosa che romanticamente mi piace. No, 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 momento, su questa cosa vorrei dire una cosa importante. È immorale, può essere immorale essere come il Paris Saint-Germain, che compra tutti i giocatori più forti, che spende tutti quei soldi, quello può essere immorale. Ma la situazione dell'Inter immorale non ci sto, perché l'Inter comunque ha fatto una politica diversa in questi anni. Vendi e compra, vendi e compra, vendi e compra. E ti indebiti, e ti indebiti, e ti indebiti, e ti presta soldi. E ti continui a indebitare, e chiedi soldi, ragazzi. Vendi e compra. Allora, le punzecchiature di Torino hanno sempre un po' destabilizzato storicamente l'ambiente nero-azzurro, perché è sempre stato un gioco da parte loro, quella di andare lì a pungolare, a pungolare, a pungolare. A Moratti non le facevano le punzecchiature. No, finisco il ragionamento, finisco il ragionamento, finisco il ragionamento. Però, da pochi anni a questa parte, fortunatamente per noi, è arrivato a Milano un dirigente come Marotta, che è stato capace di fare una schermatura a queste pungolature. E io, questo discorso che ha fatto Marotta, lo interpreto così. Ha detto la sacrosanta verità. Ha detto quello che doveva dire, secondo me. Perché l'Inter e la Juventus si stanno giocando il campionato. E secondo me la filosofia di Marotta è molto più consona, è molto più giusta rispetto alla filosofia di dire dobbiamo vincere lo Scudetto. Perché, secondo me, così si estempera anche un po', si crea anche un po' di, diciamo, si toglie un po' di tensione. E quindi, lui dice, ce la giochiamo. Che l'Inter non vinca contro la Juventus, perché è quello il punto più importante. Può succedere. Vediamo. Può succedere. Magari giocate anche meglio, ma può succedere anche che perdere. Se succede, a voi non entrano dalla finestra dei fantasmi, entrano delle astronavi fantasmi. Vi voglio ricordare, al di là delle parole... Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi, che sono tristi perché non sanno più come vincere. Lo Scudetto che ha vinto il Milan poco fa... Era la squadra più forte il Milan. Ai danni dell'Inter non era la squadra più forte, ma è riuscito a vincere lo Scudetto. E per quello che dico, la Juventus non è la squadra più forte. Sempre per la legge dei grandi numeri. Io penso che quest'anno, dai, la legge dei grandi numeri... Però Gianni, io sono d'accordo con se che l'Inter è più forte. Non penso che l'Inter faccia lo stesso errore. Però voi dovete essere... Faccia lo stesso errore. Ho sempre detto, Gianni, un'altra frase profetica rispetto alla Champions League. L'ultima squadra italiana che ha vinto la Champions League è l'Inter. E finché non la rivince l'Inter, nessun'altra squadra la rivincerà. Sì. Questa è una maledizione. L'ha detto, barbara. La sentenza. Adesso la conferma che quel complicato gli fa male. Compratrona. Scaldatrona. Scaldatrona. Un po' ladino. Cantiamo insieme con felicità E tra di noi il profumo di vittoria c'è già E presto tornerà La gloria che il mondo ancora ci invidierà Cantiamo l'inno all'inter vincente Inter Inter La stella splendente Inter È un inno d'amore Canta insieme a noi Che il successo non potrà sfuggire E senti Nell'aria c'è profumo di vittoria Il cuore nero-azzurro sogna gloria E vuol cantare la sua fedeltà Alla sua storia ora Il cielo nero-azzurro si colora Hai delle grosse risposte Grazie Simone Barbato Grazie a tutti Amala Passa inter Amala È una storia Grazie Aspetta Un'ora è tarda Se no Morina Morina veramente Non ce la faccio più Grazie Morina Non ce la faccio più Ciao Giovanna Buonanotte Barella e Ciala Non te li diamo Ciao